Il Montelazzo si trova in un'accudetta sopra il fiume di Amone, al nord, e il podio di Tiucia, al sud. Tutta l'accudetta era occupata, a parte da ogni litigio finale. Ne testimoniano i punti di vreci pareti, trovi in un luogo e i pezzi di tarale che contano i leppichi sfarenti di un'occupazione continua. Ma, se è conosciuto così, è soprattutto per i macini cercati da petra da far farina, coa biada o iandi. Ne è stato contato quasi duecenti di pareti razzi, fatti in do granito, con più di centocinquanta macinedi o pistedi. Con questa quantità di macini, la popolazione che campava in questo luogo è stata stimata a più di duecenti persone. Sono fatti i macini di tre manieri. A più presenta è la macina fatta di un tavone e di un scoglio, ben da lisciato, dove è da passare e venire la macineda da riducere la materia in polvina. La seconda forma di macina è più tardiva. Il tavone più maggiore è fatto da una petra che si può colugare. La tecnica cambia tanto con la doppia di una macineda più maggiore e tenuta coi due mani. A terza forma si assomiglia di più a un mortale, dove dava inciaccata materia con un pistedo di petra. Sopra l'uogo si trova di no agroti e sapari. In duno di Stagroti è stata studiata una sepoltura di aprutostoria. Usito è stato acconciato a un medieo e di nuovo occupato, non c'è tanto da pastori. È vero che anche oggi gli spondi di liamone sono adatta a cultura quanto alla Devo. Da qui, a gente poteva andare a cercare l'usomagna in mare e all'orlo di mare, conchigli e pesci, ciso e bedenomarosi. A vista c'è la punta di Capradia, l'uogo occupato anche da un Neolitico a un Medieo e diventato tanto il più importante castello di Gorziga, sito dei famosi cinarchesi, che fu un patrone di quasi tutta la Gorziga dall'ondicesimo a vinto quindicesimo secolo.